Archivi della biblioteca reale solo Pony autorizzati, ma chi è più autorizzato di una principessa? Ora si passo in serio? Magia per Pony, Saria Duda di Rhymes, decima edizione di libro integrale degli unicorni e la loro dieta, eh? Beh, è stranamente specifico Wow, non sapevo nemmeno che queste avesse così tanti libri E penso che neanche gli altri voi lo sappiano Oh, è sugli unicorni del mondo antico, come tu che pari mi ringrazierebbe per un libro del genere Oh, sì, sì, mi hai forse seguito? Ah, io? Ah, io non ceco nessuno, siamo nello stesso posto, ma non significa che ti ho seguito Ma in effetti mi hai seguito Ok, è vero, è chiaro Un po' nervosa a causa di tutti quei Pony, quindi ho pensato di seguire l'altra amica Pony che conosco e a cui non piacciono le folle Mmm, vero, è una cosa che c'è comuna E quindi adesso ti fidi di me? Perché adesso è così importante che io mi fidi di te? Dacci un taglio, Missy, ti comporti in modo strano dal primo giorno Ah, io? Il mio istinto non si sbaglia mai Beh, non di solito, qualche volta lo fa, ma non spesso e lo provo nei miei risultati E comunque, senti, il punto è, cosa stai nascondendo? Ah, ok, va bene D'accordo, allora ti confesso che io... Io? Io non ho più di Mark Lo so, è scioccante Lo pesна è che io